Si chiama smishing ed altro non è che un sms truffa inviato ad utenti ignari alla finalità di sottrarre informazioni e credenziali di conti bancari per poi poterne sottrarre denaro. Assieme al phishing, altro fenomeno particolarmente in voga in tempi di moneta elettronica e shopping online, pratica sempre più diffusa ed incoraggiata dall'isolamento domestico in tempi di coronavirus, rappresenta una delle forme di criminalità più redditizie e tutto sommato più facili da mettere in pratica. Basta essere veloci. È un fenomeno in aumento sia perché ormai naturalmente per comodità si fa quasi tutto online, sia anche per il fenomeno della pandemia che ci costringe ad usufruire di più di questi servizi. La nostra provincia che in ambito di acquisti online ed utilizzo della moneta elettronica continua a mantenere un posto di rilevanza nella classifica nazionale non è assolutamente esente dal fenomeno. Anzi, sentite cosa è successo martedì scorso ad una donna residente dalle nostre parti e titolare di una carta post-pay. Ha ricevuto un sms in cui l'istituto di credito le richiedeva le credenziali, ha poi ricevuto una chiamata da un falso operatore bancario e quindi ha fornito queste credenziali. Ha poi perso una somma di denaro pari a 19 mila euro, però si sono riusciti quantomeno a bloccare ulteriori 9 mila euro che senza un'azione tempestiva della polizia postale dell'arma dei carabinieri probabilmente sarebbe stata sottratta. Le indagini sono tuttora in corso, certo è che su una tipologia di crimine basata sul tempismo dei truffatori la velocità nel denunciare quanto accaduto è davvero di fondamentale importanza. Il blocco della carta è infatti avvenuto prontamente grazie all'intervento degli agenti della polizia postale. Le indagini sono ancora in corso perché chiaramente trattandosi oltretutto di un fenomeno virtuale può essere facile risalire all'intestatario su carta ma poi bisogna vedere qual è la persona che si cela dietro quel nome e cognome. Il fenomeno è tutt'altro che cosa rara. Tutti i giorni dall'ufficio denunce vengono segnalati degli episodi di frodi informatiche, di truffe tramite questa modalità smishing o phishing e quindi di situazioni in cui qualsiasi tipologia di utente sia dall'anziano sia dal ragazzo più giovane cade poi in questi errori.